Nelle scorse lezioni abbiamo parlato molto dell'Europa, abbiamo visto l'Italia, l'unificazione italiana, abbiamo visto la Germania, certo abbiamo visto anche la seconda rivoluzione industriale, ma siamo sempre rimasti piuttosto eurocentrici. Oggi mettiamo un po' da parte il vecchio continente e ci addentriamo invece in un mondo nuovo, che sono gli Stati Uniti d'America, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa vedendo la rivoluzione americana e poi lo sviluppo all'inizio dell'Ottocento, ma di cui adesso dobbiamo parlare di una svolta epocale importantissima che avviene con la guerra di secessione, una guerra che ha importanti risvolti militari ovviamente, ma anche importantissimi risvolti sociali. Andiamo a cominciare! Dopo il consueto caffè siamo pronti. Dicevamo gli Stati Uniti, noi avevamo lasciato gli Stati Uniti ancora la dottrina Morrossi, vi ricordate? Cioè a quel momento in cui un po' facendo la voce grossa, gli Stati Uniti avevano cominciato a dire agli europei lasciate del continente americano che a questo continente in qualche modo ci pensiamo noi. Effettivamente attorno alla metà dell'Ottocento gli Stati Uniti sono un paese in grande crescita economica, l'abbiamo anche visto quando abbiamo parlato in fondo delle ferrovie e comunque di tutto lo sviluppo industriale della metà dell'Ottocento, ma non solo aumentava l'economia, si sviluppava l'economia, aumentava anche rapidamente il numero di abitanti, un po' grazie all'immigrazione dall'Europa, abbiamo visto che dall'Italia, dai paesi dell'est, nella seconda metà dell'Ottocento arrivano molti migranti, un po' perché effettivamente gli americani iniziano a spostarsi verso occidente in maniera sempre più corposa e numerosa, quindi il confine degli Stati Uniti, il far west, come abbiamo già in parte visto, comincia gradualmente a spostarsi sempre più a occidente. In realtà questo sviluppo fu trainato sì in parte anche dalle strade, dai mezzi di locomozione, dai treni, ma soprattutto fu legato all'agricoltura che rimaneva il settore veramente di slancio di questa giovane America, l'agricoltura anche perché man mano che i coloni si spostavano verso occidente trovavano nuove terre da coltivare, terre che spesso non costavano nulla e su cui si potevano impiantare anche tecniche nuove o comunque nuove macchine, cosa che come abbiamo visto renderà molto produttiva l'agricoltura americana e molto poco costosa, tant'è vero che in Europa la concorrenza americana inizierà presto a farsi sentire. Ma non dobbiamo neppure pensare che gli Stati Uniti fossero un monolite all'epoca, perché in realtà all'interno di questo paese in rapida crescita convivevano tre diverse zone, tre diversi stili di vita e modi di produzione economica. C'erano intanto le colonie del nord-est, le care vecchie colonie del New England per dire e non solo il New England, quindi Boston, New York, Philadelphia, tutte queste zone in cui c'era un'economia abbastanza florida, c'era anche un'industria che stava iniziando a svilupparsi, c'erano soprattutto le banche, c'era la borghesia, c'era il centro finanziario del paese. Dopo, secondo lato, era il lato medidionale della costa orientale, dove invece l'economia era di tipo radicalmente diverso e avevamo visto che questa diversità c'era già all'origine, già nel 1776, perché qui al sud permane invece la piantagione. Non c'è industria, praticamente tutta l'economia si basa sull'agricoltura ed è un'agricoltura di vecchio stile appunto, la piantagione come vi dicevo, cioè grandissimi appezzamenti di terra, tutti coltivati a monocultura, quindi ad esempio abbiamo detto il cotone, il tabacco e altre cose di questo genere, quindi monocultura e chiaramente non si usano più di tanto macchine, perché nelle piantagioni ciò di cui c'è veramente bisogno è la mano d'opera, possibilmente a basso costo e questo possibilmente qui si realizza, perché effettivamente negli stati del sud degli Stati Uniti la mano d'opera è costituita essenzialmente da schiavi neri, permane lo schiavismo, la schiavitù e questi schiavi neri costano ovviamente nulla se non un bit all'oggio e questa è la base più forte dell'economia di questi stati del sud. Ai due stati, due fazioni che si erano già fronteggiate nella rivoluzione, si contrappone una terza istanza in questa fase, un terzo modo di produrre, un terzo modo di vivere che è quello dei pionieri dell'Ovest, che partono proprio dall'est, ma lasciano tutto e vanno in cerca di fortuna all'Ovest e si forma, come abbiamo già in parte visto, una mentalità nuova, perché questi coloni intanto producono in maniera molto più innovativa, lavorano la terra, ma la lavorano direttamente investendo anche i loro risparmi, i loro soldi, i macchinari, in forza lavoro pagata, salariata e non più schiavista, ma poi hanno una mentalità molto individualista, pionieristica, in cui si spinge per il self-made man, per l'uomo che si crea una fortuna da solo, sulla base della sua voglia di fare, della sua voglia di lavorare e del suo coraggio anche, della sua voglia di rischiare. Ora, nei primi 50, 60, 70 anni di formazione degli Stati Uniti, queste diverse realtà erano convissute tra loro con qualche attrito, ma globalmente si erano integrate. Messo la metà dell'Ottocento le cose iniziano a cambiare però, perché il Nord e l'Ovest iniziano a progredire dal punto di vista economico, inizia soprattutto a imporsi una mentalità nuova che è quella borghese, che è quella dell'investimento, che è quella della libertà di spostare le merci e gli uomini e di innovare soprattutto, mentre il Sud rimane ancorato alle sue vecchie tradizioni e proprio il Sud inizia a costituire da un certo punto di vista un problema per il Nord e per l'Ovest, perché intanto il modo di rivoluzione è molto arretrato, ma poi questo schiavismo inizia a stridere un po' con la mentalità borghese, oltre che ovviamente con gli ideali di libertà e di uguaglianza che costituivano la base della stessa Costituzione americana. D'altronde gli schiavi del Sud non erano certo pochi, si stima che all'epoca, attorno a metà dell'Ottocento, ci fossero circa 4 milioni di schiavi neri negli Stati del Sud e degli Stati Uniti, a cui si contrapponevano circa 6 milioni di bianchi, quindi i neri in queste zone erano circa il 40% della popolazione, non certo poco. C'è da dire poi che però non è che i 6 milioni di bianchi fossero proprietari dei 4 milioni di neri, tutt'altro la proprietà degli schiavi neri era allocata nelle mani di pochissime famiglie molto ricche del Sud, circa 2 mila famiglie possedevano 4 milioni di schiavi neri, tutto il resto degli abitanti del Sud, quindi qualche milione, non possedeva alcun schiavo, non era un proprietario terriero, non era un possidente e quindi era povero, quindi tutto sommato era una società molto rigida in cui una piccola minoranza della popolazione dominava l'economia e a volte anche la vita dei cittadini neri che non erano neppure veri propri cittadini proprio perché erano schiavi. Inoltre la popolazione del Sud, questi proprietari terrieri, soprattutto queste poche famiglie, avevano sviluppato nel corso degli anni un atteggiamento paternalistico nei confronti degli altri abitanti del Sud e soprattutto cercavano in un certo modo di replicare gli usi e i costumi della vecchia aristocrazia europea, si vestivano in modo molto appariscente, curavano il linguaggio, le buone maniere, si tenevano molto alla rispettabilità, insomma erano davvero quasi una nuova nobiltà, molto spesso imparentati tra loro, insomma costituivano un centro di potere, vecchio stile proprio, che si contraponeva al nuovo stile del Nord e dell'Ovest, dove invece un povero poteva rapidamente far fortuna e certo non vedeva di buon occhio questo passatismo, questa arretratezza del Sud. Se volete un riferimento molto banale, ma insomma anche abbastanza efficace per capire qual era lo stile di vita di questi uomini del Sud, vi basta guardare Via col vento, il famoso film del 1939 statunitense, in cui si raccolta proprio la guerra di successione che adesso affronteremo dal punto di vista del Sud, dei nobili del Sud, perché la protagonista Rossella Oara è la giovane rampolla di una di queste famiglie di proprietari terrieri, di possidenti che avevano anche schiavi, se lo guardate fate attenzione perché è un film molto sbilanciato nella prospettiva storica, perché prende nettamente le parti del Sud mostrando come quasi lo schiavismo non fosse proprio tutto questo gran male, però come documento storico, almeno del modo di vivere, di vestire, anche delle abitudini di queste persone molto dedite alle feste, agli atteggiamenti quasi di corte potremmo dire, più che alla produzione e all'arricchimento si mostrano molto questi aspetti. Certo poi la protagonista Rossella cambierà mentalità nel corso del film e vedremo che diventerà simile a quelli del Nord a un certo punto, più che alla cara vecchia gente del Sud. In questa situazione si vengono a creare in questa metà dell'Ottocento negli Stati Uniti due partiti politici di riferimento, due partiti che in realtà originalmente erano Stati Uniti poi si sono scissi, si sono spaccati e l'avevamo già visto questo se vi ricordate. Da una parte c'è il Partito Democratico, dall'altra c'è il Partito Repubblicano, sono due partiti che ancora oggi si contendono la politica americana, anche se come vedremo un po' adesso e un po' l'anno prossimo, nel corso dei decenni questi partiti poi hanno anche cambiato per qualche verso, classe di riferimento. Comunque Partito Repubblicano e Partito Democratico, all'epoca il Partito Democratico era il partito che curava gli interessi delle classi del Sud, in particolare dei proprietari terrieri del Sud, quindi il Partito Democratico, contrariamente a quanto può essere oggi, era un partito favorevole alla schiavitù, schiavista, favorevole a questa economia agricola basata sulle piantagioni, insomma ma che difendeva il Sud. Il Partito Repubblicano invece si era andato formando un'identità proprio in questi anni e si era avvicinato molto invece alle posizioni degli imprenditori del Nord, quindi era tendenzialmente più liberale, più liberista in economia, più aperto a cercare di superare lo schiavismo e la schiavitù. Questo Partito Repubblicano che inizialmente era minoritario nel paese, un po' alla volta cominciò a guadagnare consensi, complice anche la crescita di quelle classi sociali che in esso si riconoscevano e nel 1860 riuscì a fare leggerle per la prima volta un suo candidato come Presidente. Questo candidato è un nome che avrete sentito mille volte e che è considerato uno dei padri della patria statunitense perché era Abramo Lincoln, appunto esponente repubblicano, figlio di contadini dell'Ovest, cioè era un uomo del Far West, nato all'Ovest con i suoi genitori che erano pionieri partiti in cerca di fortuna e che poi si era buttato in politica, quindi il tipico uomo che avrebbe contrastato, ci si aspettava, gli interessi dei vecchi possidenti del sud perché di mentalità molto diversa. In realtà durante la campagna elettorale Lincoln si mosse con una certa sapienza, con un certo equilibrio, ad esempio non dichiarò mai di voler abolire la schiavitù, anzi quando gli veniva chiesto cosa inteneva fare con la schiavitù del sud, rispondeva che non avrebbe affrontato il tema durante la sua presidenza, quindi che non avrebbe toccato gli interessi dei proprietari terrieri riguardo alla schiavitù. Quindi non era proprio questo il problema all'ordine del giorno, però durante la campagna elettorale aveva promesso alcune cose che avrebbero comunque danneggiato il sud e favorito gli imprenditori del nord e dell'ovest, ad esempio aveva promesso che avrebbe alzato i dazi doganali, cosa che effettivamente è antiliberista ma in quel momento gli tornava utile perché nel nord degli Stati Uniti si stava sviluppando, vi ho detto, un'industria, ma un'industria ancora tutto sommato fragile, debole, che faticava a competere alla pari con l'industria britannica. Ora, alzare i dazi doganali avrebbe aiutato l'industria americana a non subire la concorrenza diretta degli inglesi e quindi a svilupparsi più pacificamente, più tranquillamente, però alzare i dazi doganali avrebbe danneggiato ovviamente le esportazioni, alzare i dazi come vi ricordate blocca le importazioni, ma di solito, perché anche gli altri rispondono a quei dazi, sfavorisce le esportazioni. Gli Stati Uniti effettivamente esportavano cosa? Esportavano cotone, le terre del sud, le piantagioni del sud esportavano molto cotone proprio verso l'Inghilterra, dove poi quel cotone serviva per l'industria tessile. Ora, alzare i dazi doganali, quindi era una tipica mossa per favorire l'industria del nord e come effetto collaterale danneggiare le piantagioni del sud. In più, Lincoln promise un'altra cosa, che avrebbe distribuito le terre demaniali al sud. Al sud erano presenti ancora terre demaniali, quindi di proprietà dello Stato in colte, che lo Stato si sarebbe impegnato a distribuire ai contadini, cosa che avrebbe chiaramente indebolito, anche se in piccola parte, la forza di proprietari terribili, perché avrebbero avuto dei concorrenti con cui fare i conti. Insomma, gli stati del sud erano molto preoccupati e divennero ansiosi quando Lincoln venne effettivamente eletto, tant'è vero che proprio poche settimane dopo la salita al Campidoglio di Lincoln, nel febbraio 1861, dieci stati del sud si accordarono tra loro e proclamarono la secessione, cioè si staccarono dall'Unione, uscirono dagli Stati Uniti. Una mossa unilaterale che il governo centrale non accettò ed effettivamente, dopo qualche tentenamento, ad aprile sempre del 1861, il governo centrale dichiarò guerra a questi dieci stati che si erano staccati. Questi stati del sud vennero subito ribattezzati stati confederati, perché effettivamente appena fatta la secessione, proclamarono la nascita di un nuovo organismo che era una confederazione, non più una federazione. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato della nascita degli Stati Uniti abbiamo anche detto che ci fu ampio dibattito sulla forma da dare al nuovo Stato, se farlo nascere come uno Stato federale oppure come uno Stato confederale. lo Stato confederale era quello con un potere centrale molto debole, mentre la federazione aveva una via di mezzo, presentava qualche piccolo accentramento. La confederazione garantiva maggior libertà agli stati membri, però all'inizio era stata scartata, ora questi stati che non accettano l'elezione di Lincoln decidono di darsi la forma della confederazione e infatti verranno ricordati come i confederati. Quando sentite l'esercito dei confederati o la bandiera dei confederati nei film americani, loro si riferiscono agli Stati del Sud che fecero la secessione. Perché fecero la secessione questi dieci stati? Non temevano di perdere, nel fondo erano pochi dieci stati e certo contro tutto il resto degli Stati Uniti difficilmente avrebbero potuto vincere, almeno nell'immaginario che ne abbiamo noi oggi. In realtà all'inizio gli stati confederati avevano varie frecce al loro arco, erano favoriti. Perché erano favoriti? Perché avevano un esercito molto organizzato. Vi ho detto che le famiglie del Sud, quelle più ricche, avevano acquisito dei gusti, dei modi quasi nobiliari, ma soprattutto molte di queste famiglie avevano i loro uomini migliori nell'esercito. La carriera all'interno dell'esercito era tipica di queste famiglie del Sud, quindi proprio l'esercito americano nel suo complesso era pieno di ufficiali e di uomini in posizioni di comando che provenivano dal Sud. Quando il Sud si stacca, una buona parte dell'esercito e soprattutto tutti gli uomini più capaci, generali, ufficiali, quasi tutti vanno a combattere per il Sud. Quindi il Sud, pur essendo magari pochi stati, hanno un esercito migliore almeno in principio. In più sono molto ben organizzati, c'è un generale che guida l'esercito del Sud che si chiama Robert Lee, il famoso generale Lee, anche questo forse l'avete sentito perché c'è una serie TV degli anni 80 che è Hazard su quei due tizi che guidano la macchina e scappano in giro per le campagne americane e la loro macchina si chiama generale Lee perché sono sudisti anche loro e li impiangono questa guerra di secessione. Comunque il generale Lee è effettivamente un generale molto capace che guida con grande abilità tattica anche l'esercito del Sud, in più gli stati del Sud sperano anche di non dover combattere da soli contro il governo centrale perché confidano che prima o poi possa arrivare l'aiuto della Gran Bretagna. Perché sperano nell'aiuto inglese? Perché, come vi dicevo, l'economia del Sud si basava principalmente sull'esportazione di cotone verso la Gran Bretagna e questa esportazione veniva danneggiata dalla politica di Lincoln che avrebbe voluto mettere questi dazzi. Ora, gli stati del Sud dicono, noi siamo contrari alle politiche di Lincoln perché finiscono per danneggiarci, ma anche l'Inghilterra sarà sicuramente contraria davanti a queste politiche protezioniste dannose per l'economia inglese di Lincoln e quindi la Gran Bretagna arriverà a darci una mano. Il nostro esercito più l'esercito inglese avrà facilmente ragione dell'esercito del Nord che effettivamente all'inizio è preso in contropiede, è disorganizzato. Dalla sua il Nord però c'è da dire, ha l'industria e vedremo che con l'andare del tempo, col procedere della guerra, il fatto che il Nord alle industrie e il Sud non ce le abbia farà la differenza. Come va la guerra? La guerra va come un po' vi ho già detto, all'inizio prevalgono le forze del Sud, le forze confederate perché sono meglio organizzate, ma le battaglie che vengono vinte dai confederati non risultano mai decisive e quindi il tempo passa e più passa il tempo più il lago della bilancia si sposta verso le forze del Nord perché l'Inghilterra non entra in gioco, l'Inghilterra rimane fuori dalla guerra quindi non dà il sostegno sperato ai confederati e poi perché il Nord appunto a forte della sua industria inizia a produrre armi molto più velocemente del Sud, inizia poi a riorganizzare il proprio esercito, insomma più passa il tempo più le forze del Nord trionfano, tant'è vero che la guerra si conclude nel 1865 con effettivamente la resa dei confederati, il vincitore della guerra è il generale Ulysses Grant, capo delle forze armate del Nord, quindi tutto sommato la guerra finisce con la vittoria di Lincoln che era stato il presidente che aveva indirettamente provocato la guerra ma che alla fine la vince, è però una vittoria per certi versi di Pirro perché Lincoln muore l'anno dopo ucciso a teatro con un colpo di pistola da un fanatico sudista, quindi non sarà l'ultimo presidente americano ucciso con un colpo di pistola, purtroppo ne parleremo ancora di circostanze simili l'anno prossimo in quinta, però ecco il sogno di Lincoln di un'America di Nuova Unita e sotto la sua guida dura molto poco. Comunque al di là dell'esito questa guerra va ricordata anche perché fu per certi versi una guerra nuova che anticipava le guerre che si sarebbero poi combattute nel Novecento, tant'è vero che alcuni storici la definiscono la prima guerra totale. Perché guerra totale? Perché fu una guerra che coinvolse la società americana nel suo complesso. Fino a quel momento, o meglio fino alle guerre napoleoniche, le guerre raramente coinvolgevano la popolazione civile, le guerre riguardavano gli eserciti, gli eserciti partivano, andavano a scontrarsi con gli altri eserciti, certo magari la popolazione del luogo in cui si combatteva era coinvolta perché gli eserciti saccheggiavano, distruggevano, ma solo lì il resto del paese continuava la sua vita. Quindi quando Napoleone partiva con il suo esercito e andava in battaglia, i francesi quasi non se ne accorgevano, magari avevano un parente a combattere per carità, ma certo non venivano bombardati o non trovavano la guerra per l'estrare. Qui negli Stati Uniti le cose iniziano già a mutare perché la guerra coinvolge anche i civili e vi dicevo prima via col vento, se guardate via col vento lo vedete chiaramente, ci sono delle scene famosissime tipo l'assedio di Atlanta in cui la città di Atlanta che era la città più importante del sud subisce l'attacco, il saccheggio e il esercito nemico, vedete come anche la cittadinanza, le donne vengono coinvolte come crocerossine, diremmo oggi come infermiere, tutta la società si adopera per combattere la guerra e questo a sud come al nord, anche perché è una guerra tecnologica, è una guerra che si combatte anche con l'industria e quindi anche gli operai indirettamente partecipano alla guerra perché vanno a lavorare in fabbrica per produrre le armi che poi serviranno sul campo di battaglia, quindi una guerra che coinvolge la società nel suo complesso, coinvolge anche i nuovi mezzi, le nuove scoperte tecnologiche, quindi nuove armi, ma anche il telegrafo, il treno come vi dicevo vengono usati ampiamente durante la guerra, anche le navi a vapore, insomma si usa di tutto e tutto questo porta anche a tantissimi, tantissimi morti, si contano circa 600.000 morti durante la guerra di secessione, che per l'epoca è un record, le guerre napoleoniche facevano, e le guerre precedenti quindi, facevano molti meno morti in proporzione, quindi segno che qualcosa sta cambiando, qualcosa sta mutando e questi cambiamenti li vedremo davanti agli occhi soprattutto con la prima guerra mondiale, che si combatte 50 anni dopo, però è figlia di queste novità. Tra le tante battaglie sanguinose della guerra di secessione, sicuramente la più famosa di tutte è la battaglia di Gettysburg, che ancora oggi nell'immaginario americano è molto importante, perché se vi ricordate i presidenti celebrano spesso l'anniversario della battaglia di Gettysburg, perché effettivamente morirono moltissime persone, questa battaglia fu combattuta nel 1863. Inoltre, come vi dicevo, questa guerra fu importante anche per gli effetti sociali e politici e d'altronde lo stesso Lincoln farò, prima di morire ovviamente, una serie di riforme che poi vedremo non tutte andarono a buon fine, ma che segnavano un cambio di lotta. Durante la guerra, d'altronde Lincoln usò il suo ruolo di presidente anche per cercare di trovare sostegno nelle popolazioni in una guerra che durava parecchio e a lungo. Quindi per alimentare le speranze dei cittadini del nord, varò alcune riforme proprio durante la guerra, due in particolare sono importanti. La prima prevedeva la consegna delle terre demaniali dello Stato in maniera gratuita a chiunque ne avesse fatto richiesta, cioè lo Stato si impegnava a prendere le terre che aveva ferme, incolte di sua proprietà e donarle gratis a chi ne faceva richiesta. Quindi c'era una promessa di terra ai contadini, terra ai poveri, terra a chiunque, quindi anche ai poveri del sud Lincoln diceva perché combattete per i ricchi del sud? Combattete dalla nostra parte perché con me avrete dei vantaggi, avrete la terra che i proprietari del sud non vi vogliono dare. Questo è un primo elemento importante e il secondo elemento importante arrivò nel 1863, quindi a guerra appena mente in corso, quando Lincoln decise per legge di abolire la schiavitù. Come vi dicevo però queste riforme che avevano una portata incredibile per la società del sud soprattutto, riuscirono per certi versi a metà, anzi abbastanza poco, perché intanto quella sulle terre demaniali venne abolita poco dopo la fine della guerra. Durante la guerra Lincoln l'aveva promessa, ma poi si fece marcia indietro e quindi gli effetti sociali rimasero un sogno per i contadini poveri del sud, questo è un primo elemento. Secondo elemento riguardante la schiavitù, effettivamente la legge che aboliva la schiavitù rimase in vigore, però non è che in realtà la condizione dei neri, degli afroamericani che vivevano al sud migliorò poi così tanto, anzi per certi versi peggiorò, perché è vero che venne abolita la schiavitù, però questi uomini del sud passarono dalla schiavitù alla segregazione razziale, perché nel sud si imposero da lì in poi fortissime forme di discriminazione e di violenza nei confronti dei neri e degli afroamericani che ne avrebbero piagato la storia per un altro secolo. Come forse sapete il sud reagì infatti molto male sia alla sconfitta, all'umiliazione della sconfitta, sia a queste leggi che volevano mutarne la fisionomia sociale, tanto è vero che si vennero a creare alcune società segrete, la più famosa delle quali è il Ku Klux Klan, che avevano come scopo quello di punire tutti quei neri, quegli afroamericani che non stavano al proprio posto, quelli che ambivano a parità dei diritti, che volevano fare di testa loro, che si ribellavano a un sistema che invece era segregazionista, voleva che i neri facessero solo alcune cose, stessero al loro posto e continuassero di fatto a fare gli schiavi pur non essendo più schiavi. Il Ku Klux Klan, come saprete, avete visto in molti film, era quel gruppo di fanatici razzisti che giravano con queste grandi tute bianche, cappucci bianchi e spesso incendiavano il crocefisso, come simbolo era il crocefisso fiammeggiante e dalla fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, fino anche però agli anni 40, 50 e 60 del Novecento, agì molto pesantemente con violenze, linciaggi e omicidi nei confronti degli uomini, soprattutto di colore del Sud. Ecco questo a gran linea era quello che volevo dirvi riguardo alla guerra di secessione americana, come avete visto l'abbiamo fatta in sintesi, un po' velocemente, anche perché effettivamente non c'è tantissimo da dire, ma era utile fare questa piccola parte per in certo senso collegare i fili dagli Stati Uniti di inizio dell'Ottocento agli Stati Uniti che ritroveremo più avanti, all'inizio del Novecento ormai maturi, ormai industrialmente forti e potenti. La guerra di secessione è un momento di passaggio importante, è un momento di svolta anche nella costruzione anche dell'identità americana. La prossima volta parleremo dell'imperialismo, torneremo in Europa, anzi più che in Europa andremo a parlare dell'Africa e dell'Asia, però partendo sempre dagli Stati Europei, perché saranno gli Stati Europei protagonisti di conquiste coloniali in altri continenti. Ma questa è un'altra storia, ne parleremo meglio la prossima volta, per ora abbiamo già fatto abbastanza, mi raccomando studiate, confrontate quello che ho detto io con il libro, qui sotto nella descrizione del video trovate i capitoletti degli argomenti che ho trattato oggi così da ritrovarli più facilmente e ci vediamo qui la prossima volta. Però mi sa che la rifaccio perché ero proprio spento, moribondo, la rifaccio. I dinamici che cambiano, la rifaccio tutta, non continuo a impappinarmi. Grazie.